Bene amici, anteprima esclusiva grazie ai nostri insider sulla perequazione e rivalutazione delle pensioni 2024. Tradotto, parliamo dell'aumento di tutte le pensioni causa inflazione che scatterà da gennaio. Ho novità sulle fasce, sugli importi lordi, ma soprattutto un'anteprima sul tasso, sulla percentuale di rivalutazione che è già stata comunicata a IMSS. Io sono Mr. Lul, mi raccomando un bel like sulla fiducia prima di partire, seguite il video fino alla fine e quindi sale il costo della vita, arriva l'indice dell'Istat di rivalutazione a cui segue il decreto ministeriale e infine aumentano le pensioni. Attenzione, questo aumento perequativo, adesso vi dico il tasso, non verrà riconosciuto a tutti i pensionati in maniera uguale, visto che anche nel 2024 avremo le fasce e il decalage, quindi la riduzione. A gennaio riceveranno un aumento pari al 100% del tasso di rivalutazione i pensionati con trattamenti lordi, lo sapete, trattamenti lordi mensili, fino a 4 volte il minimo, tradotto 568 il minimo, per 4 trattamenti lordi fino a 2271 euro, hanno il 100% della rivalutazione. Tra 4 e 5 volte il minimo, quindi fino a 2840 euro lordi di pensione, il tasso di rivalutazione sarà riconosciuto all'85%, tra 5 e 6 volte il minimo la rivalutazione si dimezza, 53%, 47% del tasso tra 6 e 8 volte il minimo, 37% tra 8 e 10 volte, e per le pensioni d'oro oltre 10 volte il minimo, quindi sopra 5680 euro mensili, rivalutazione ridotta al 22%. Ok, quale sarà il tasso di rivalutazione del 2024? Ufficialmente ce lo potrà dire soltanto il decreto ministeriale, che sarà pubblicato a ore, massimo a giorni, entro il 20 novembre, ma ho uno scoop. IMS, infatti, ha già ricevuto indicazioni provvisorie, sottolineo provvisorie, in merito a questo tasso. Qui vedete la conferma via mail. Infatti, andando a fare richiesta di un piccolo prestito personale, sul portale IMS da qualche giorno, è visibile l'importo lordo previsionale di gennaio 2024, che riporta una rivalutazione del 5,4%. Fermi, solo il decreto potrà confermarci poi questo tasso, potrebbe cambiare di qualche decimale, ma questa è una chicca che abbiamo scoperto grazie all'insider Francesco e all'insider dell'Inps. Tenti di nuovo, però, il governo sta pensando di modificare ancora le fasce di perequazione che abbiamo appena visto, per reperire ulteriori fondi. Questo per evitare lo sciopero annunciato, più che annunciato soprattutto del personale sanitario, medico, che subirà un taglio importante delle pensioni. Quindi, non è finita qui. Attivate la campanella per ricevere il video, non appena uscirà il decreto di Giorgetti in gazzetta, con le percentuali stra-ufficiali. Parola d'ordine, scoop! Alla prossima, un abbraccio da Mr. Lulla.